Culla di una civiltà fiorente, l'area degli Escarton è un chiaro esempio di come le affinità etnico-culturali abbiano superato barriere politiche per mantenere l'ambiente alpino senza confini. Fortemente uniti dalla lingua occitana, gli abitanti di Brianson, Keyras, Castel Delfino, Pragelato e Ulx si ritrovano annualmente nella festa della Valado per rilanciare un comune sentire. Esempio piccolo ma concreto di una futura Europa senza frontiere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.